Siamo qui, è la Critical Mass di fine mese, si aggancia domani sabato e domenica con la Ciemona e aspettiamo Ignazio che ti ha telefonato? Sì, Ignazio mi ha assicurato che oggi sarebbe stato qui, anche domani a Ciemona. Ma sai più o meno l'ora che ora arrivava? Ha detto verrò, adesso... Ma vieni con noi a fare proprio la Critical Mass. Sì, sì, da questo che farà un giro... Ciao Ignazio! Ciao Ignazio! Ciao Ignazio! Ciao Ignazio!